Una vera e propria azienda con macchinari di ultima generazione, quella che si trova nel piano terra dell'Istituto Fiocchi di Lecco. È il laboratorio territoriale occupazionale voluto da un pool di aziende con il supporto delle istituzioni. Servirà per formare i studenti delle scuole professionali e per riqualificare i lavoratori che hanno perso il posto. Il progetto si pone come obiettivo quello di attrezzare uno spazio, una vera e propria impresa simulata, ma che porta all'interno un livello di tecnologia elevatissimo. Noi abbiamo una macchina da stampa flessografica della OMED, che è il cuore, collegata poi con una serie di attività di produzione e manutenzione, quindi un centro di controllo, un CNC, una fresa, un tornio, il tutto collegato con un sistema software che permetta quello che si chiama virtual commissioning, cioè partire dal progetto e arrivare alla produzione senza passare dal prototipo. Chiaramente è una innovazione, è una situazione che permette alle aziende, ad esempio, che la sperimentano, di avere dei tempi di produzione più ridotti e che, a mio parere, è molto importante che i nostri ragazzi possano vedere per arrivare pronti poi a quello che sarà l'ingresso nel mondo dell'azienda con la possibilità di competere per il futuro. Abbiamo sempre detto della difficoltà di andare a reperire ragazzi qualificati e allora perché non qualificarli, perché non avere, non una fabbrica virtuale, ma una fabbrica vera all'interno di un istituto che permetta ai giovani di istruirsi, di prepararsi e di essere i protagonisti del nostro futuro. Questo è anche un orgoglio fatto dell'insieme di più associazioni, di più persone, che sono state capaci, pubblico, privato, di mettere insieme idee, sostanza e realtà. Quindi benvenga questa fabbrica vera dove si possano creare e costruire delle professionalità indispensabili per il nostro futuro.